Giulia una partita tranquilla senza emozioni insomma proprio liscia diciamo che ho perso almeno dieci anni di vita ma sono veramente stra felice perché visto come si era messa siamo state bravissima a rimanere unite rimanere lì con la testa e davvero guarda non ho parole tie break diventato un set intero praticamente 25 23 se ne vedono pochi è stato un bellissimo un bellissimo set davvero cioè secondo me è un set di altissima qualità di pallavolo con belle difese e belli attacchi veramente bello sono due squadre che secondo me può si assomigliano magari che abbiamo difeso tanto loro veramente difendevano tutto una cardullo strepitosa davvero e sono contenta perché alla fine insomma secondo me noi sulla carta siamo più forti e l'abbiamo portata a casa questa semifinale Bergamo si era presa quei tre punti che non voleva più mollare nel tie break un po' di sfortuna un po' magari di fatica anche grazie ai 5 set a trovare le soluzioni più efficaci però poi quando contava siete rimaste lì attaccate sì per fortuna insomma è entrata una cischi molto in forma e ci ha aiutato tantissimo e sicuramente anche questo è inciso ci siamo unite tanto e scusa che da dietro mi fanno le facce e sono veramente contenta che perché siamo partite malino il quinto set e invece siamo riusciti a stare lì e a rimontare a rubare un punticino alla volta e quello che dovevamo fare dopo la Champions e la Coppa Italia ancora Conegliano anche nel playoff sì infatti sono molto contenta perché è una squadra che conosciamo bene e sicuramente è una Conegliano un po' diversa perché non ha dei cruif e non credo che rientri insomma quindi dobbiamo cercare di sfruttare questa cosa perché insomma per loro sono quei 20 punti in meno che a noi potrebbero fare comodo sì infatti è un po' diversa